Fatto 100, le 100 cose che l'ex sindaco Melucci dice di aver realizzato per Taranto al punto 5 figura la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di Palazzo Archita. Beh, stiamo seminando la rinascita. Ha la faccia della rinascita che dici di aver seminato, Rinaldo? Non risponde. È un degrado assoluto, è qualcosa di impressionante. Una struttura, un'opera che è completamente bloccata, paralizzata. Neanche la sagrada famiglia di Barcellona ha avuto nella sua storia tempi così lunghi. Ma, Rinaldo, è possibile raccontare certe favole ai cittadini? Tu, lo ripeto, al punto 5 parli di una cosa già fatta. Ma cosa hai fatto? Questa è una cosa fatta. Questo è un cantiere che sta all'inizio del suo percorso. Ma stiamo scherzando? Ma ora, al di là delle battute che sto facendo, della scenetta, ma è possibile prendere per i fondelli i tarantini? È possibile dire di aver fatto, di aver realizzato un qualcosa di inesistente? Ma per favore, non prendiamoci gioco dei cittadini. Il 12 giugno facciamo una scelta seria. Per questo vi prego, vi invito a premiare la mia coerenza, il mio impegno. In 21 anni di attività giornalistica ho detto di tutto di più a tutti, senza bavaglio. E ho combattuto e contrastato il malaffare pubblico e privato. Ho denunciato tantissime situazioni di degrado nella città. Ho contrastato la grande industria, l'ILVA e oggi l'exILVA, Ciaieri d'Italia. Insomma, per questa serie infinita di ragioni chiedo il vostro consenso. Vedete, sentire e leggere certe fantasie proprio suona come uno schiaffo dato in faccia ai tarantini. Non meritiamo questo.